ciao creatura guarda Gomes che cosa ho trovato era fuori che vagava senza una meta vicino al nostro cimitero hai visto che creatura inquietante no per tutti gli inferni spero che non sia una creatura innocua se così fosse l'avrei già buttata in mezzo alla strada spero che sia una creatura veicolosa eh sì altrimenti non l'avrei mai fatta entrare dentro il nostro castello dato che è una giornata veramente orribile non c'è neanche una nuvola in cielo e non c'è neanche un po' di pioggia temporale niente questa serata così brutta veramente ho deciso di accogliere questa creatura inquietante ciao puoi restare per la notte se vuoi nel nostro castello abbiamo tantissime stanze lunghi corridoi lunghi corridoi dove puoi perderti sì l'ultima creatura che abbiamo ospitato non l'abbiamo più ritrovata sì non l'abbiamo mai più ritrovata credo stia ancora vagando per il castello a meno che Tozio Fester non l'abbia mangiata non so ah davvero mio marito Gomez mio marito mi ha detto che ha trovato un piede di questa creatura in una stanza però le altre parti del corpo non so dove siano se lo troveremo ti faremo sapere se ci tieni particolarmente ti va vero di restare per la notte non ti preoccupare creatura mi prenderò io cura di te con me non sei assolutamente al sicuro certo quella lì è mia figlia mercoledì lei è una è quella fase dell'adolescenza quella che attraversano tutte le ragazzine no non è la passione per i maschietti per l'omicidio certo quello è il mio vaso di rose sì ho tagliato tutte le rose e hai mostrato solo lo stelo quanto è bello vero? mio marito le adora hai fame? hai fame? no quella non è una strega nemmeno la cuoca è mia madre può prepararti uno di quelli suoi schifosissimi piatti noi li adoriamo sembra petrolio non è petrolio è molto peggio sì noi ceniamo spesso con quel piatto oppure se ti va uno snack potresti sempre mangiare un bel morso di questo cervello un cervello pulsante è fresco di giornata sai lo abbiamo estratto questo pomeriggio io mercoledì dal cimitero sarà il nostro spuntino di mezzanotte se vuoi vuoi toccarlo annusalo non fa schifo fa tremendamente schifo non lo so se è dello zio non so se è dello zio del nonno di mio marito o perché vedi nel nostro cimitero non c'è solo la nostra famiglia a volte riceviamo il dono come questa sera di trovare qualche creatura inquietante che vaga nei dintorni del nostro cimitero la ospitiamo non sempre sopravvive anzi diciamo che il 98% non sopravvive ma sono sicura che passerei una notte bellissima qui nel nostro castello quindi vuole anche un morsetto se vuoi lo teniamo per questa notte faremo un pigiama party no a me pigiama party non piacciono a me piace vediamo che gioco potremmo fare gioco dell'impiccato oppure ancora meglio ti faccio provare potresti provare nella camera delle torture qualche giostra per noi sono delle giostre molto divertente e rilassante dovresti provarle oppure potresti fare un altro gioco mia figlia ha un gioco nuovo con cui gioca sempre con Paxi che è nostro figlio suo fratello minore abbiamo una chigliottina nuova di zecca e beh il tuo ruolo sarebbe quello di inserire la testa poi vedrai la sentirei molto più leggera niente allora non vuoi non vuoi proprio assaggiare questo cervello io non capisco perché per noi è veramente uno snack molto 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 delizioso 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 no non ti graffio effettivamente sono un po' appuntite effettivamente però fammi provare questo invece che ho qui è un teschio di un'altra creatura che era entrata nel nostro castello senza il nostro permesso voleva rubare tutti i nostri averi perché noi siamo una famiglia molto molto ricca c'è una stanza segreta c'è una delle tante stanze segrete in questo castello ed è ricca 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 di cose preziose e di monete d'oro e questa persona questa creatura voleva entrare ha cercato di entrare in questa stanza ma il nostro maggiordomo lo ha trovato prima che potesse raggiungere il corridoio centrale nella lovest del castello che tra l'altro la stanza segreta è da tutta altra parte lì teniamo delle armi certo sono armi molto antiche e quindi anche quelle di valore ma non sono nulla in confronto a quella stanza così mia madre gli ha fatto una maledizione ed ora non ne resta nulla se non che questo teschio d'oro perché alla fine è stato tramutato in ciò che desideravo possedere ma non può spenderlo perché non esiste più e quindi ora la nostra ricchezza grazie a questa creatura è aumentata perché abbiamo il deschio dorato un piccolo teschio tutto d'oro è impolverato perché è così che mi piace tenere tutti i miei soprammobili non sono veramente graziosi così dai creatura voglio offrirti qualcosa da bere che ne dici questa bella tazza come puoi notare sì mi piace molto la morte la morte i teschi le torture le creature inquietanti come te quasi quasi io non ti lascerò andare via perché mi sei molto simpatica sei una creatura molto inquietante io adoro le creature inquietanti le cose inquietanti quindi penso che ti terrò rabbimento è un reato ma no no cosa stai parlando dai che cosa vuoi un po' di sangue di lucertola ti piace no che cosa ti piace il succo di lucertola succo di cimice ma è buonissimo no è leggermente piccante tipo lo zenzero ma a me lo zenzero non piace perché non ho detto che fa bene la salute quindi questa cosa mi ha fatto passare la voglia di ingerirlo nel mio corpo e trovo che in realtà anche alcuni veleni di alcuni animali siano davvero molto gustosi e no a quanto pare è proprio ciò che dona ciò che fa sembrare la mia pelle così giovane secondo te quanti anni ho? riprova no ho sbagliato cosa ci facevi là fuori vicino al nostro cimitero creatura ti sei persa che bello che fantastica cosa da fare e hai provato paura quindi ti sei divertita tantissimo non ti preoccupare abbiamo tante stanze sì puoi stare da noi finché vuoi e divertirti a perderti e ad avere paura faccio preparare la tua stanza all'ora del nostro maggiordomo sì preferisci il letto di chiodi no va bene allora ti farò preparare un letto normale con un materasso un cuscino se a te piace stare comodo è una tua scelta io in un letto del genere non riuscirei proprio a dormire io riesco a dormire solo se sto scomoda sì se magari c'è qualcosa di appuntito che mi perfora un fianco ancora meglio riesco a rilassarmi molto meglio tu invece ti accomodo non so come tu faccia veramente per me è impensabile anche per mio marito sì sì a volte per fargli una gradita sorpresa infilo uno scorpione africano molto molto velenoso dentro il letto di mio marito e quando lo sento urlare lo vedo coperto di bolle con le labbra viola ho capito che è felice tu creatura come rendi felice i tuoi familiari è un modo davvero bizzarro per rendere felice qualcuno mio figlio l'altro giorno è venuto a casa con la pagella ha tutte insufficienze siamo molto orgogliosi di lui per questo stiamo pensando a che regalo fargli per questa bella notizia però non sappiamo bene tu hai qualche consiglio a riguardo creatura hai delle strane idee su quello che potrebbe piacere a un ragazzino della sua età una bottiglia con una pozione velenosa ma ne ha già ne ha già un armadio pieno si poi in cucina ne abbiamo tantissime puoi fare di meglio con i tuoi consigli creatura sei sicuro creatura che ha un bombo di cervello non lo vuoi provi senti è fresco vorresti venire con noi la prossima volta a raccogliere un cervello fresco possiamo raccoglierli dal nostro cimitero oppure anche da qualche altro cimitero nella zona e si beh fresco è buono ma anche stagionato si tipo il formaggio ma il formaggio cervello stagionato è molto meglio dovresti provarlo apri la tua mente creatura e prova cose nuove guarda questa puzza è seofester sta arrivando si lo si potrebbe sentire arrivare da un paese all'altro da quanto puzza sa tipo di marcio di cadavere si è proprio lui nella stagionata è la sua festa lui è un cannibale ma mangia anche qualche verdura è un tipo strano dipende sai quelle cose che vanno di moda adesso tipo vegane quelle lì se tu le fai a forma di umano le mangia si 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 ti presento creatura hai visto quanto è inquietante dormirà con noi questa notte nel nostro castello vuoi un morso di cervello? seofester a cuccia non puoi mangiare la mia nuova creatura se dovessi essere mangiata penso sarebbe giusto ti mangiassi io perché io ti ho trovata io ti ho aggutita e io ti ho ti sto spedando non mi sembra giusto che sia seofester a divorarti quindi seofester mettiti in coda perché prima ci sono io comunque tranquilla creatura non verrai mangiata per adesso poi non so potrei cambiare idea ma per adesso non verrai divorata tranquilla se sarà abbastanza inquietante non ti mangeremo diventerai parte della nostra famiglia beh direi che è l'ora di un cervello no non lo vuoi vuoi andare a letto sei così stanca creatura anche un po' spaventata non capisco per quale motivo però va bene lo accetto la tua camera è pronta vuoi farti prima un bagno caldo caldo bollente tipo le aracoste no preferisci andare a letto così d'accordo allora vai pure e urla se hai bisogno di qualcosa il nostro maggior domo arriverà subito in un lampo sì quella è mano veglierà su di te tutta la notte sarà lì presente fino a che non ti addormenterai e se non ti addormenterai starà lì ma tanto anche lo zio Wester verrà a spiarti vedrai ti sentirai molto a tuo agio con noi no sto scherzando ti sentirei a disagio tutto il tempo è quello il bello quindi cara creatura adesso straiati e che dici ti leggo una bella storia horror no va bene allora ti ipnotizzerò e ti farò tormentare ti va molto divertente non è una maledizione forse ok allora preparati concentrati su di me dormi 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 alessio 3 6 6 9 10 12 13 15 Within 17